L'alimentazione nella pratica sportiva amatoriale agonistica come elemento fondamentale della performance. Questo è il tema trattato nell'incontro alimentare Watson, la performance nello sport e nella danza, promosso da Fondazione Bracco in collaborazione con l'Accademia della Scala e con il patrocinio del Ministero della Salute, tenutosi a Palazzo Italia Expo. Medici, studiosi e specialisti, oltre a testimonio d'eccezione come Leto Allori e Ladorella e l'ex difensore nerazzurro Ivan Cordoba, sono intervenuti su un tema fondamentale per tutti quelli che praticano lo sport e la danza, non solo a livello agonistico, e cioè il corretto apporto nutrizionale ed energetico necessario ad affrontare le rapide modificazioni metaboliche a cui si è soggetti durante i diversi momenti che caratterizzano l'attività sportiva e coreutica, l'allenamento, la performance e il recupero. Raffaella Lorenzut, direttore risorse umane del gruppo Bracco. L'alimentazione è sicuramente fondamentale non solo per lo sport ma per la vita ed è importante che i giovani imparino proprio ad alimentarsi in modo corretto e in particolare quando fanno attività sportiva, anche perché il cibo e l'alimentazione, lo sappiamo, è un po' un terminale che se non gestito bene può portare a tutta una serie di problematiche. L'iniziativa ha preso le mosse del progetto avviato nel 2013 da Fondazione Bracco, Accademia della Scala e CDI, Centro Diagnostico Italiano, destinato agli allievi della scuola di ballo, di età compresa fra gli 11 e 18 anni, che prevede sia l'inserimento nel programma didattico della scuola di una serie di incontri con nutrizionisti, con l'obiettivo di sviluppare nei ballerini un'adeguata educazione alimentare, sia un costante monitoraggio diagnostico dei ragazzi. Grazie.